È un dato del tutto inedito, quello scaturito a margine dell'incontro che il sindaco ha avuto con insegnanti e genitori sul tema del nuovo rinvio della partenza dell'anno scolastico nel comune della Spezia. Il 9 settembre il presidente della regione Giovanni Toti annunciava che alla Spezia era stato raggiunto il picco dei contagi. Due giorni dopo però decideva di rinviare l'apertura delle scuole nel comune capoluogo in quanto ogni 100 tamponi effettuati ben 14 erano risultati positivi contro una media nazionale dell'1,5%. Attualmente, lo dicono le mamme che hanno partecipato alla riunione di stamane, il sindaco avrebbe affermato che a ieri la percentuale di positivi si attestava sul 5%, il che avrebbe suggerito di non riaprire le scuole, visto che l'obiettivo sarebbe quello di tornare alla media nazionale di 1,5 ogni 100 tamponi effettuati. Sarebbe stata una scelta irresponsabile e scellerata a riaprire le scuole perché la ripartenza avrebbe messo in movimento tra famiglie, bambini e ragazzi, oltre 30.000 persone, ha dichiarato in una nota il primo cittadino. Quindi finalmente, grazie alla presa di posizione determinata di alcune mamme arrabbiate, il sindaco mette a conoscenza la città del fatto che le scuole non possono riprendere perché il rapporto tra tamponi effettuati e positivi è ancora troppo alto. Ad affermarlo è la ragghiglione, segretaria provinciale della CGL, che si chiede perché è stato necessario attendere fino a ieri pomeriggio per comunicare che l'attività didattica non avrebbe ripreso, visto che si sapeva già dalla scorsa settimana che questo rapporto non sarebbe sceso in modo drastico? Forse perché c'erano le elezioni, si chiede Ghiglione. Perché il sindaco non ha parlato prima di questo rapporto e soprattutto qual è il parametro oggettivo che permette la ripresa qualcuno è in grado di dircelo?